Ciao a tutti ragazzi, sono Gabriele, eccoci qua in Piazza della Libertà, ci troviamo ad assistere alla processione in onore della Beata Vergine Immacolata. Nella nostra città questa festività ricorda la fine della peste, che durante la notte, durante il giro bandistico, come di consuetudine, sparano dei petardi come simbolo di festa. Ecco, la banda come di consuetudine suona l'uscita dell'Immacolata, c'è delle figie. Scusate per la tosse. Ecco, la banda come di consuetudine sui piedi. La processione si muove. Eh sì, dietro al terzo ordine francescano. Ecco lo standard dell'apparizio. Ecco, la banda come di consuetudine sui piedi. Anche le cose сторонe sulle in Piazza www.~! Chissà, l'az Trazione ci muove. L'az Ah 유elma del battio di Sidon Didn gridriare è di occhio! èli quissà di Kelli. I Whitiness! I portantini Rimmacolata sarebbe che segna la fine della peste I tromboni si sentono forte per giunta La capa di Santa Andrea Grazie